Ciao Jan, benvenuto a Drive Inter, sei il nostro nuovo ospite. Allora Jan, partiamo e partiamo subito con le domande. Ti piacciono le interviste? No. Perché non ti piacciono? Perché non mi piace troppo parlare di me, semplicemente. Benissimo, allora tu fai finta che io, non lo so, sia una tua amica? Oppure anche la voce del tuo navigatore? Tanto questa sarà più una chiacchierata, ok? Tra amici, mettiamola così, va bene. Tu hai qualche rito scaramantico prima della partita? Come dire? Io, come dire? Io escuto della musica, parlo con i miei amici, ho un testo. E, per esempio, mi piace farmi gli occhi, resta solo a me e non escuto della musica. Ad esempio, dici, cos'è che scrivi di solito ai tuoi amici prima della partita? Se si può dire. Non. Come si dice? Il y eno, mi dice, buon match, bocca al lupo. Bocca al lupo? O, se non, il y eno, direttamente, va dire che dicono, dei bambini, ma dei piccoli ponti, così grandi ponti, dei dribble, in effetti. Le cose che facevo quando ero piccoli, in club. Non è bene. Yann, siamo arrivati nel luogo della tua prova. Adesso dovrai sottoporti ad un test per continuare il nostro viaggio insieme. Quindi, abbassa il parasole, legge ad alta voce quello che devi fare oggi. Uh! Yann, sul terreno, abbiamo l'habitude di vedere eliminare gli avversari come se fossero chi? Il tuo challenge di oggi sarà una partita di bowling, per farvi la tua prova di Drive Inter. Tu avrai 3 tentativi per fare un avanti. Sei pronto? Sei pronto? Andiamo allora! Andiamo! A presto! A presto! A presto! A presto! Ma... c'è sempre. Tu prendi le due, le metti là, e poi ti cerchi. Tu devi cercare al massimo le due. Quindi... Ma ha un significato particolare, Jan? No, io faccio anche con i miei figli, mia figlia, mia figlia, mia figlia, mia figlia, e molti amici.